Un evento formativo molto importante che tratta problematiche primarie per il mondo dilettantistico e giovanile, l'anagrafe federale, i tesseramenti, i contratti, il nuovo scenario collegato al decreto 36 che porta ovviamente una rivoluzione rispetto a modus operandi precedenti. Noi abbiamo organizzato come Lega Nazionale Dilettanti tre incontri per macroare e dopo aver fatto un incontro centrale a Roma e quindi l'incontro qui al Comitato Regionale Veneto vede interessate tutte le realtà del nord e quindi ovviamente una realtà primaria anche all'interno della rappresentatività del mondo dilettantistico. Stiamo approfondendo questi problemi, è un momento formativo per il personale, è un momento formativo anche per noi dirigenti perché dobbiamo essere attrezzati per poter dare un servizio sempre migliore alle società in un contesto di modifiche significative. Ci saranno ancora degli aggiustamenti, ne abbiamo già avuto uno immediatamente dopo il decreto del primo di luglio e quindi ne avremo probabilmente un altro preannunciato dal Ministro Abodi in corso di stagione, ma è naturale che la federazione e tutte le componenti della federazione stanno interfacciando con il Ministero per poter significare quelli che sono i problemi più rilevanti che sono maturati in relazione alla modifica del quadro normativo. Questi problemi in particolare attengono alla tenuta relativamente alla valorizzazione dei vivai perché evidentemente il fatto di ridurre drasticamente la possibilità di avere un rapporto di tesseramento con i giovani determina il rischio che molte società stacchino la spina sul versante degli investimenti sui vivai. Nel momento in cui tutti quanti noi diciamo che a maggior ragione bisognerebbe investire sui giovani in quanto giovani e sui vivai per quanto riguarda il mondo calcistico, anche per dare linfa al calcio italiano, evidentemente questa situazione determina dei problemi. Quindi dobbiamo attenderci senza dubbio altre modifiche, dobbiamo attenderci il fatto che ci possono essere aggiustamenti che riguardano tante tematiche. Adesso è stata definita la realtà collegata alle mansioni nell'ambito del sistema sportivo, dobbiamo lavorare sul contratto di apprendistato per i professionisti in modo tale che ci sia una maggiore continuità rispetto ad oggi, anche nel momento in cui si intestano dei rapporti con i tesserati da parte del mondo professionistico, ricadute anche positive per il mondo direttantistico. Dobbiamo lavorare ovviamente sul configurare in maniera diversa e più pregnante la figura del volontario, perché naturalmente i rimborsi oggi previsti sono rimborsi minimali e quindi come tale si corre il rischio che ci sia una sottovalutazione di quelli che sono costi vivi in relazione ad un'attività che non è da contratto di lavoro, ma è semplicemente a livello volontaristico. E poi dobbiamo lavorare bene sul versante dei contratti, perché è giusto che chi ha una remunerazione significativa possa avere un contratto di lavoro e naturalmente vanno testate bene le situazioni in modo tale che, come andremo poi a vedere, i contratti di lavoro nel mondo direttantistico possono riguardare un numero comunque molto limitato di giocatori, perché la gran parte continuerà a svolgere un'attività di carattere volontaristico. Lei ha toccato il tema dei giovani e quello dei volontari e in qualche modo si lambisce il ruolo sociale che ha questo sport, soprattutto a livello dilettantistico. La parte sociale è quella che sta molto a cuore alla Lega Nazionale e che sta andando molto bene, peraltro. Ci sono molte iniziative che hanno avuto un successo. Sì, è una realtà per noi fondamentale. Abbiamo sempre detto che il mondo direttantistico ha due gambe, quella agonistica e quella sociale. Quella sociale per noi è fondamentale e peraltro proprio nel quadro normativo esistente va valorizzata ulteriormente la realtà sociale che il mondo direttantistico rappresenta, perché non dobbiamo essere configurati come dei soggetti che fanno un'attività di impresa, non sto salendo l'idea. Ovviamente, come ho detto una cosa, sono i diritti legittimi di chi opera all'interno anche del mondo direttantistico. Quando sorge a determinati livelli, un'altra cosa è stravolgere la dimensione di come viene vissuto il mondo direttantistico. Noi sappiamo purtroppo che lo sport non ha mai avuto una specificità a livello di Commissione Europea e quindi di fatto viene considerato come se fosse un'attività economica normale, mi spiego. E questo determina anche degli effetti sul versante dell'applicazione del quadro normativo e quindi c'è un difetto di origine che ha la base di un sottodimensionamento in termini di valutazione dello sport sul versante sociale. Quindi dobbiamo riuscire a contemperare le esigenze che rappresentavo prima con il fatto che poi il nostro è un mondo di socialità, è un mondo di relazioni, è un mondo di formazione, è un mondo di crescita, è un mondo di giovani e svolgiamo un ruolo, è un ruolo fondamentale sul versante della salute, sul versante dello stare insieme, sul versante dell'aggregazione sociale e quindi non dobbiamo essere da questo punto di vista colpevolizzati di un'attività che senza dubbio porta valore aggiunto. Il calcio in generale, ma lo sport, dà al sistema paese, non toglie al sistema paese perché se andiamo a verificare qual è il tipo di rapporto fra le realtà che genera da un punto di vista sia economico che sociale e quello che ha come risorse da parte del sistema pubblico, vediamo che il saldo è nettamente tale da determinare un credito importante da parte del sistema sportivo e del mondo dilettantistico. C'è un messaggio che vuole dare a queste società dove ci sono dei donkey shot spesso alla guida? Sì, bisogna gestire bene le società, peraltro nel mondo dilettantistico questo non è neanche più una scelta ma una necessità perché il mondo dilettantistico non ha ricavi, la forza che ha è quello dato dalla passione, dalla motivazione, dall'identità territoriale, dal fatto di rappresentare un territorio, un campanile, una storia, una tradizione, la soddisfazione di vedere ragazzi e squadre che giocano insieme nella propria realtà di territorio, quindi bisogna stare attenti che poi il quadro normativo non sia talmente complesso che determini disamore da parte di chi in qualche modo dà e non prende dal sistema nel quale opera.